Buonasera dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fibili, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze in via D'Amendola fino al 15 settembre chiuso il controviale tra viaggio 8 e il numero civico 48. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!